Troppo bello potrei anche chiudere qui. Sono queste le parole commosse di un Valentino Rossi che ha vissuto a Misano la sua ultima gara italiana in 26 anni di corse mondiali. In 35.000 lo hanno applaudito nel commiato dal circuito romagnolo, in milioni lo hanno seguito osannato e celebrato in più di un quarto di secolo che ha completamente stravolto la storia del motociclismo. Uno sport destinato ad avere un'era pre e post Valentino Rossi. È stato un epilogo coi connotati della giornata storica, abbellita dallo spettacolo delle frecce tricolori, resa ancora più commovente dall'incredibile coincidenza della ricorrenza del decennale della scomparsa dell'amico Marco Simoncelli. Valentino ha ancora altre due gare da correre ma intanto saluta i circuiti italiani, saluta Misano che è stata la sua pista di casa e alle cui gradinate ha regalato il lancio di un casco dopo un decimo posto in pista. Piazzamento arrivato nel giorno in cui il francese Fabio Quartararò a vincere il mondiale. Dominatore del presente dopo che a vincere la gara è stato il dominatore del passato recente Marc Marquez, acerrimo rivale di un Valentino che a lungo è stato il dominatore con nove mondiali, cinque titoli consecutivi e con lo status di unico pilota della storia ad aver vinto in quattro categorie diverse. Uno sportivo che anche nell'ultima decada di Avara di Gioia non ha mai smesso di influenzare e dominare la scena. Lo sanno bene a Tavuglia dove nel weekend è scesa qualche lacrima e dove il popolo giallo si è riunito per una edizione speciale di Tavuglia in moto. L'ultima edizione a precedere una gara di Valentino da Tavuglia.